Ecco, questi sono gli interventi, la Regione si è dimostrata pronta a fare di più, ma quello che conta è che la macchina deve funzionare e ci sono sempre più interventi e attenzioni per la protezione civile. A proposito di protezione civile, dobbiamo dire che domani venerdì mattina a Ragusa, nella sala giunta, verrà presentato un progetto di protezione civile per quanto riguarda la città di Ragusa. Questo è un lavoro che ha fatto il Comune con l'assessorato relativo, in questo caso penso che sia Giovanni Iacono, e viene presentato questo progetto. Io non lo so come viene fatto e che cosa c'è dentro. Una cosa che mi preoccupa spesso è la tecnologia avanzata che viene venduta a prezzi pazzeschi che però poi, come abbiamo visto in molte occasioni, non riesce a dare il risultato che vorremmo avere. La gente vuole sentire, parlare le persone, non gli basta avere l'app, vuole che qualcuno gli spieghi, state attenti che questo è il momento preoccupante. Va bene, quindi domani ci sarà questa presentazione e cercheremo di capire di cosa si tratta. Cambiamo argomento, un argomento molto interessante. Leggiamo dalla Nazione Siciliana, questo giornale online, che c'è una novità che ha colpito subito e sta facendo il giro di tutti i giornali. La Corte Costituzionale ha emesso la propria sentenza sulla legge sull'autonomia differenziata. Ricordate che c'è stato un dibattito incredibile, addirittura è stata presentata anche una richiesta di referendum che ha superato il milione di firme, quindi l'autonomia differenziata non era particolarmente apprezzata. Cosa ha fatto la Corte Costituzionale? In pratica non ha dichiarato la legge Calderoli incostituzionale, perché dice che il governo può fare queste sue decisioni, ma ha detto che la legge dell'interesse non è incostituzionale, ma l'ha fatta a pezzi, letteralmente. Dice il giornale smontandola, rendendo di fatto impraticabile il progetto leghista. E qui c'è tutta una serie di considerazioni che dice praticamente che c'è un comunicato stampa dell'Ufficio Comunicazione della Corte che dice in attesa del deposito della sentenza, l'Ufficio fa sapere che la Corte Costituzionale, ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell'intera legge sull'autonomia, considerando invece illegittime specifiche disposizioni dell'ottesso testo legislativo, per esempio l'articolo 116 e compagnia. In pratica, come dice il giornale, sì, la legge non è anticostituzionale, ma nella sua interezza, ma se ci leviamo 12-15 articoli non è più quella legge e bisogna cambiarla. Quindi è una vittoria, perché soprattutto sulla capacità di spesa delle regioni che, come dice la nostra Costituzione, devono avere equità di trattamento, tutto questo è servito a far sì che la Corte Costituzionale abbia detto alcune cose che non ci piacciono. Vediamo cosa accadrà, non è che possiamo decidere cosa succede, dobbiamo aspettare la sentenza, lo stesso Ufficio Comunicazione dice in attesa della sentenza, poi vedremo come va a finire. Però per quelli che si sono subito dimostrati contrari alla legge Calderone, a questa autonomia differenziata, in pratica possono dichiararsi soddisfatti, perché hanno vinto in parte almeno. Torniamo alla nostra città. Applauso per le forze dell'ordine che ieri hanno portato a termine una importantissima operazione di polizia, naturalmente, arrestando diverse persone nella zona di Vittoria e Comiso, che sono poi quelle un po' più preoccupanti, dobbiamo dire, della nostra provincia. Per fortuna noi non siamo qui ogni giorno a parlare di fatti criminosi o mafiosi, ma questo quindi fa notizia. C'è da dire che sono state arrestate le persone che chiedevano il pizzo a delle aziende, quindi questo è un fatto molto interessante nella nostra provincia, che come avete sentito dall'intervista, non è che sia una provincia mafiosa, ma come si dice, guardarsi è bene, quindi i controlli e compagnia bella sono molti importanti. Come ho detto nel telegiornale di ieri, oggi c'è questa intervista che ora vi manderò in onda, che abbiamo registrato, con il collega Carmelo Schirinà della Sette, lo avrete visto molte volte, fare servizi, collegamenti, eccetera, eccetera. Lui da un po' di tempo si occupa del caso Tumino, vi ricordate il caso Tumino, quello dell'ingegnere, che sono passati, era del 72, quindi sono più di 50 anni, quindi sono passati 52 anni, e però questa discussione, non so anche perché, ma perché certamente c'è stato dietro un'aula di mistero, di, come si dice, depistaggi e compagnia bella, e quindi avendo ripreso in mano questo caso, facendogli un'inchiesta con diverse pagine sulla Sicilia, il caso è ritornato in auge. Allora, sentiamo Carmelo Schirinà, raggiunto al telefono.